Il commissario straordinario del comune di Licata, Dario Cartabellotta, nella giornata di ieri ha provveduto a nominare il legale che si occuperà della vicenda relativa alla realizzazione del progetto di trivellazione denominato Offshore Ribleo. Il legale designato è l'avvocato Valentina Stefutti del Foro di Roma, esperta in diritto ambientale, già incaricata tra l'altro da Greenpeace. Il commissario, tramite una deliberazione, ha assunto i poteri dell'Aggiunta Municipale e ha adottato il provvedimento con il quale, in esecuzione di quanto precedentemente deliberato sia dall'esecutivo che dal Consiglio Comunale, ha nominato il difensore che rappresenterà il comune di Licata nel ricorso al Tar del Lazio. Il progetto Offshore Ribleo è stato presentato dall'ENISPI riguardo all'estrazione di idrocarburi a largo della costa di Licata, sul quale il Ministero dell'Ambiente ha concluso la procedura di valutazione di impatto ambientale. Contro la sua realizzazione si sono già espressi Greenpeace appunto, ma anche diversi comuni che sarebbero interessati come Licata dalle trivellazioni in mare. Da qualche settimana è nato poi il Movimento Notriv Licata e pochi giorni fa anche il Comitato Notriv di Palma di Montechiaro. Sull'argomento si era già espressa l'Aggiunta Municipale e quando ancora a farne le veci era il sindaco facente funzione Angelo Cambiano, con una deliberazione di giunta infatti, al quale si è giunto successivamente anche il Consiglio Comunale. Licata aveva aderito alle iniziative avviate da Greenpeace, al quale partecipano anche tra le altre l'Anci Sicilia, l'ente regionale del turismo siciliano, il WWF, la Lega Coppe Sicilia, Italia Nostra e diversi comuni tra i quali quello di Ragusa, Scicli e Santa Croce Camarina. Grazie.